Adesso noi oggi abbiamo aperto il sabato, quindi domani è tutto aperto. Dopodiché il 3 scade tutto e non c'è più ordinanza. Vediamo cosa ne uscirà la DPCM, io spero che ci sia un allargamento. Se i cittadini capiscono di fare la sembranza. Più che una previsione, una tabella di marcia, quella fornita da Zaia ai rappresentanti di Treviso Imprese Unite, in sitina davanti alla sede della protezione civile di Marghera, qui nel luogo simbolo dell'emergenza del Covid in Veneto, i commercianti raccontano la loro di emergenza. Adesso il problema principale è la morte per Covid, ma andando avanti così da gennaio si inizierà a parlare di morti, di suicidio o comunque di aziende che andranno a morire mettendo in crisi famiglie numerose. In un documento consegnato a mano allo stesso Zaia, le richieste si sommano e riguardano anche i ristori governativi e la necessità di maggiori controlli proprio in funzione anti-assembramento. Chiediamo più controlli perché il vero problema per cui sono state fatte ordinanze di PCM è la gente che passeggia e che crea assemblamenti, magari con la mascherina bassa e quant'altro. Però gli unici a essere puniti siamo sempre noi delle nostre attività. Altro fronte la possibilità di programmare le proprie attività è la richiesta di questo ristoratore di Belluno. Anche chi comunque ha un bar o un ristorante deve saper pianificare la settimana, il mese. L'inbo che interessa anche il comparto della moda. Poi l'abbigliamento era in sofferenza già da due anni, bisogna dire la verità. Questa è stata proprio l'ammazzata finale.